Eh stiamo dicendo che siamo tornati qua veramente questa qua è il primo video che facciamo sul mio canale di questo FIFA Street Bene ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono Alefrantia25 e oggi c'è su Smatte baixo voglio dei link in descrizione del suo canale e comunque siamo qui perché non vi ho spiegato ancora la sfida se non l'avete visto il primo episodio andatelo a vedere nel canale di Matte che troverete sempre che no, sempre no che troverete sotto in descrizione oh è fatto guardate che cosa mi sono i falli me lo dimenticavo sotto in descrizione praticamente è una sfida che arriva a 3 vittorie e vince, siamo a FIFA Street non siamo a FIFA 13 non ci sono falli, non ci sono regole non ci sono anche arbitri quindi non puoi picchiare in arbitri perché hai perso non puoi picchiare in arbitri cosa sto facendo? siamo in una partita mi chiede mi chiedevo siamo a 5 contro 5 perché ci sono diverse modalità che poi per gli altri video vi annuncio tra cui 2 gol at Neuer at at football at 5 che canna c'è capito ti sarà da ridere nasli la prima è vera non sbagliariamo niente magari qualcuno non l'ho ancora visto vabbè a fare solito non l'ho visto l'altro video io l'ho avvisato non è vero non l'ho avvisato nessuno in questa serie nasli neuer 2 godet neuer et porta et calcio a5 che cavolo è il perfetto inglese ideale mi chiamerò così ma a te certo stai qui più indietro non ti si vede in telecamera ancora te lo devo dire ogni cavolo di video devo ricordare che c'è la telecamera ma cos'è ribery cos'è chi è ma che cos'è ma che cos'è che piace a te ci denunciano di copyright nananana nananana oh 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 sbagliarica ma tira non deve far golo zil e perché ha più o stile benzima ambe ambe dai su che dopo devo giocare a final fantasy ambe e non ci ho fatto video di final fantasy mi spiace loris benzema benzema è in fuorigioco non c'è è vero benzema quello ha lasciato la mano il mio amico per dire ma la palla cosa sto dicendo oh che cavolo è è la pastorizia gol 1 a 0 adesso vi faccio vedere una cosa ti è piaciuta ma no devo far vedere una cosa questa no quale la corsa sulla fascia ma no lo scorreggio ma l'ho già fatto io la corsa sulla fascia non c'è non c'è non c'è non c'è avete visto avete visto guarda non ferma non l'ho fermato non l'ho fermato se la prof di inglese sta guardando questo video mi scusi se magari ti ho fatta morire di infarto per il mio inglese è molto 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 ambiguo molto ambiguo il vicevio compare qui ahia sei tu ambigua con questi con questi con questi passaggi ambigui cos'è cos'era si che cavolo è ahia mamma mia se c'erano le foglie quasi sai quanti rossi e quante ah calcio a 5 c'erano i fagli vabbè ma non danno i cartellini liberi ma però ci sono anche i rigori ma è stato troppo forte quando oggi ho ho battuto il rigore ta 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 mi sto grattando la mano con con i denti ma che cavolo è da grattassi la mano con i denti na 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 bo bo sera Zeus wow parata bombe le fra bombe le fra bombe le fra avrà ebra passa avrà passa ebra 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 intanto di pareggio non ci sarà un pareggio perchè andremo sperimentare ovviamente ooooh o come dice alessandro ai golden globe ok di sicuro arriveremo al golden globe scrivete nei commenti Ale fai schifo a filo street no Ale fai schifo perchè ogni video che devo fare devo ruttare tira tira una buona volta osin osin ti sacco un orecchio ti ho fatto con l'osin comunque io lo dico se perdo butto giù la mia scarpa e queste scarpe butto giù e mangio il minestrone faccio pure un video dove lo faccio vedere gol 3 a 1 ma tu non sai fare questo si che lo so fare ma io lo faccio più bello dai fallo no non adesso perchè ora stavo uscendo gol gol io comincio a prendermi le scarpe gol sono 4 a 1 io non ci credo basta finita è finita prima no dimmi che è finita prima dimmi che è finita si è fatto a 1 mi accontento di questo no il miglior è stato smile stager con 1788 se vi è piaciuto mettete mi piace mettete mi piace anche a pagina facebook che te lo vedete sempre sotto in descrizione disiscrivetevi al canale di Matteo o iscrivetevi se non siete ancora iscritti iscrivetevi e disiscrivetevi allo stesso tempo e direi che per oggi è tutto bella bella